Poi ovviamente abbiamo parlato delle questioni del futuro dell'Unione Europea, il futuro della integrazione, di una maggiore integrazione europea che noi metteremo al centro del nostro programma per il semestre del 2014. Un'Europa che faccia in quel semestre un deciso e decisivo passo avanti sul tema dell'Europa politica. Questo è il tema che a noi sta più a cuore, ho chiesto a Joseph una condivisione, un aiuto in questa direzione. Il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea farà fare all'Unione Europea, siamo convinti, quel salto avanti decisivo e direi di più quel punto di non ritorno rispetto al terreno e all'obiettivo dell'Unione politica europea e in particolare all'Unione dell'Eurozona che ovviamente rappresenta oggi il punto di riferimento più importante.